Marina Larosa, non faccio sesso da tanto tempo. Per me l'organo sessuale principale è il cervello, l'ex concorrente del grande fratello Marina Larosa, soprannominata, la gatta morta, intervistata nel programma radiofonico di Radio 2, I Lunatici, ha rivelato, non faccio sesso da un sacco di tempo. Sono tanti mesi ormai, per me l'organo sessuale principale, almeno nel mio caso, è il cervello. Se non mi si eccita il cervello, non mi eccito. Per cui faccio fatica a trovare una persona con cui instaurare una sintonia. Anche se fosse una semplice avventura, ne deve valere la pena. Non ho scelto la castità, ne voglio essere assessuata. Sono libera e disponibile. Solo che non trovo la persona giusta. Secondo me faccio soggezione, ma non so perché. Sono stata il sogno erotico degli italiani? Sì, è vero. Oggi non credo di esserlo ancora. Essere il sogno erotico degli italiani mi Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero. Sì, è vero.